Questo è un video che alcuni di voi mi hanno richiesto e che aspettavano da un po'. Oggi parleremo della gestione separata delle fonti audio su OBS, dopo la sigla. Prima di proseguire con la visione del video vi invito ad iscrivervi al canale, cliccare sulla campanella ed attivare tutte le notifiche di modo da restare sempre aggiornati. Ricordo anche che è disponibile il mio canale Discord sul quale arriveranno notifiche di nuovi video e dirette e sul quale potremo sentirci per giocare insieme durante le dirette sul canale Viola. Link in descrizione. Popolo di nerd, miei iscritti e popolo tutto YouTube, benvenuti o bentornati su MasterJ Tricks. Io sono MasterJ e oggi ragazzi andremo a vedere appunto come poter separare le tracce audio su OBS Studio, quindi avere una gestione separata dei volumi, che siano queste applicazioni in genere, musica o finestre o ad esempio l'audio del gioco ragazzi. Andremo a vederlo ragazzi tramite un plugin che si chiama Win Capture Audio. Effettivamente OBS Studio da già qualche versione integra all'interno dei suoi file di sistema questa possibilità, però non mi piace molto come questa funzione viene gestita, quindi utilizzeremo come ho fatto sempre finora il plugin esterno Win Capture Audio. Quindi andiamo a vedere come possiamo scaricare il nostro plugin e come poterlo poi effettivamente utilizzare. È una cosa abbastanza semplice, semplicemente avremo la possibilità poi di selezionare le fonti audio che a noi interessa gestire separatamente, ovviamente poi si possono monitorare tutto quanto e avremo una gestione più accurata dei nostri file audio, evitando così ragazzi di avere audio indesiderato all'interno di OBS e nelle nostre live. Cominciamo ragazzi con aprire una pagina web e andiamo a digitare ad esempio su Google OBS Win Capture Audio. Verremo portati come sempre nella pagina del plugin da poter scaricare. Ovviamente ragazzi vi lascerò comunque il link in descrizione per raggiungerlo in maniera più adeguata, in maniera più rapida. E questa è la pagina di Win Capture Audio. Si è fermato alla versione 2.2.3 beta. L'ultimo aggiornamento risale a luglio del 2022. E la versione minima ragazzi per poter utilizzare questo plugin è OBS 27. Ovviamente ormai siamo già alla 30, chi non l'ha aggiornato ragazzi fatelo perché ci sono un po' di migliorie sulla versione 30, quindi vi consiglierei di aggiornare l'ultima versione. E andiamo a scaricare questo plugin. Quindi quello che dobbiamo fare è andare semplicemente su Go to Download. Verremo portati alla pagina di Win Capture Audio, quindi possiamo scegliere qui sotto se scaricare l'installer o se scaricare il file zip. Ovviamente se non volete avere problemi con l'installazione e non sapete dove vanno introdotti i file, potete scaricare l'installer, schiacciate sul file installazione e provvederà questo a copiare i file necessari all'interno della cartella installazione di OBS, che generalmente si trova in C programmi OBS Studio. Io preferisco prendere il file zip, quindi andiamo a scaricarlo, selezioniamo la destinazione di salvataggio, in questo caso lo andiamo a salvare sul desktop e chiudiamo. Prendiamo il nostro file. Allora, abbiamo già visto in un video precedente come anche installare i plugin, ad esempio l'abbiamo visto con l'Audio Monitor. La procedura è sempre la stessa, comunque andiamo a farlo assieme. Apriamo la cartella compressa di Win Capture Audio, troveremo queste due cartelle, una cartella data, una sottocartella OBS Plugins, dove ci sono poi effettivamente i plugin di Win Capture Audio con tutti i file che noi andremo a poi piazzare nella cartella sorgente di OBS e un'altra cartella chiamata OBS Plugins, che anche questa andrà sostituita, in questo caso per la versione 64-bit, penso tutti abbiamo la stessa versione, non si vede neanche la versione 32-bit più. Dunque, per fare questo dobbiamo entrare nel nostro PC, andare nel nostro disco di Windows, quindi in C, programmi, cercare la cartella OBS Studio, la apriamo, prendiamo il file data, così com'è, e lo andiamo a sostituire qui all'interno della cartella. Ci verrà chiesto di sostituire tutti i file all'interno della cartella data, verranno aggiunti nuovi file, quindi sostituite e andate avanti. Io in questo caso ho già il plugin all'interno del mio programma, quindi non andrò a farlo. Fatto questo, ragazzi, prendete anche la cartella OBS Plugins, la portate allo stesso modo qui all'interno, ed andrete a sostituirla, così com'è fatto, con la cartella data. Fatto questo, ragazzi, chiudete la finestra e il nostro plugin sarà installato. Andiamo a vedere ora come funziona effettivamente su OBS Studio. Dunque, abbiamo installato il nostro plugin all'interno del nostro OBS, quindi andiamo a vedere adesso come effettivamente si catturano le sorgenti audio separate. Prima di tutto, ragazzi, assicuratevi all'interno del vostro OBS di andare a disattivare le fonti audio globali, quantomeno l'audio desktop, se volete lasciare il microfono, lasciatelo attivo se vi interessa averlo attivo di default in tutte le vostre scene, altrimenti disattivate anche quello e inseritelo come fonte audio locale, quindi come fonte scena per scena. Una volta fatto questo, ragazzi, chiudete, cliccate su OK, e andremo a vedere direttamente come separare queste fonti. Mettiamo caso che voi vogliate monitorare la sola musica all'interno del vostro OBS. In questo caso, se voi andate a guardare il mixer audio, qui c'è solo il mio microfono. Io qua l'ho già aggiunto come fonte locale, semplicemente inserendolo come audio d'entrata e selezionando il mio microfono, il mio microfono è già qui pronto, quindi posso già regolare il volume. Questa è una mia sorgente già separata. Stessa cosa, se io copio questa fonte all'interno della scena gameplay, sentirò l'audio anche all'interno della scena gameplay. Infatti, come vedete, il mio microfono è ancora nel mixer audio. Generalmente può servirvi nelle vostre live inserire della musica, ok? Per evitare di catturare tutto l'audio tramite l'audio desktop, appunto, utilizzeremo una sorgente separata. Io generalmente per riprodurre la mia musica in live utilizzo Musicbee, ok? Voi potete utilizzare l'applicazione che volete, io utilizzo questa. Come faccio a andare a catturare l'audio solo dall'applicazione? Beh, ecco che con l'aggiunta del plugin abbiamo questa nuova voce che si chiama Audio Application Audio Output Capture. È normalmente già integrata in OBS tramite questa voce catture audio applicazioni che è ancora in fase beta. Però non mi piace tanto, come dicevo, perché ha qualcosa in meno che vi andrò a mostrare tra poco. Quindi andremo a utilizzare direttamente il plugin Wing Capture Audio che abbiamo installato poc'anzi. Quindi per catturare la vostra musica e gestirne l'audio separatamente rispetto a tutto il resto del PC clicchiamo su Application Audio Output Capture. In questo caso io voglio catturare solo la fonte audio di Musicbee e quindi mi interessa chiamarla solo Musicbee in questo caso, ok? Quindi andrò a dargli ok. Come potete vedere, qui comparirà una finestra con un enorme spazio. In questo spazio andranno inseriti gli eseguibili delle applicazioni di cui noi vogliamo catturare l'audio. Quindi possono esserci anche più applicazioni in un'unica sorgente, però ovviamente la gestione del volume sarà unica, quindi ha poco senso effettivamente. Ci tornerà utile questa cosa dopo, ve lo spiegherò in una parte magari dedicata ai gamer, quindi tra qualche minuto. Allora, per fare questo, come detto, abbiamo Musicbee aperto, abbiamo qui il menu a tendina nella sezione Add from Currently Active Session, quindi aggiungi da sezioni attualmente attive. Andiamo quindi a cliccare nel menu a tendina e vedrò l'eseguibile di Musicbee. Andrò a selezionarlo e lo aggiungerò agli eseguibili. Ecco che, una volta fatto questo, io posso cliccare. Ecco, come potete vedere nel mixer, è comparsa la voce dell'audio di Musicbee. Andiamo a abbassarlo appena appena. Ora voi non lo sentirete, però vi mostro che come vado a riprodurlo, manderò la riproduzione e come potete notare, la barra dell'audio di Musicbee si sta muovendo in questo momento, quindi stiamo riproducendo il nostro audio. Ok? Questa è la prima fonte. Possiamo anche decidere di catturare tutto l'audio che ad esempio passa dal nostro browser Chrome. Chrome, quello che magari dovete mostrare un video su YouTube e volete catturarne l'audio solo con l'applicazione. Bene, ecco che noi possiamo aprire il nostro browser e andare ad aggiungere anche la fonte di cattura audio del nostro browser. Quindi come potete vedere, ripeto, abbiamo il nostro microfono, il nostro audio di Musicbee che in questo momento è fermo, quindi non sta riproducendo nulla. Possiamo aggiungere una seconda fonte, semplicemente come abbiamo fatto prima, e dirgli che io voglio catturare l'audio del browser, quindi tutto l'audio che passa all'interno del browser. Quindi io scriverò audio browser, clicco su OK e vado a selezionare, in questo caso mi ha già trovato la finestra di Chrome che è l'ultima attiva, selezionerò Chromex e andrò ad aggiungere l'eseguibile e confermerò. Ecco che nel mixer compare un'altra fonte audio separata che è quella del browser audio, quindi se io andrò a selezionare ora un'applicazione, andiamo ad aprire il video del buon falco, potete vedere che l'audio del browser sta venendo riprodotto. Posso selezionarne il volume come voglio, ma posso anche mandare MusicBee in riproduzione, potete vedere che anche MusicBee è partito e posso gestire tutti i volumi in maniera separata solo delle applicazioni che ho scelto di far ascoltare OBS, quindi di mandare in riproduzione. Ovviamente ragazzi, tutte queste applicazioni possono essere monitorate tramite il monitoraggio audio, se volete sentirle in cuffia, ne avete bisogno, come ho fatto a vedere nel video prima del monitoraggio, potete fare in questa maniera, andare nelle proprietà audio avanzate e attivare il monitoraggio, quindi monitorarlo e inviare all'uscita, o monitorarlo e inviare all'uscita, effettivamente così lo potete sentire in cuffia e continuare a riprodurre, sia di, ad esempio, l'audio del browser, che di MusicBee, per avere un'idea di tutto quello che avete e avere un'idea bene o male in cuffia già di come sono regolati tutti i vostri volumi. Questo per quanto riguarda la cattura delle fonti audio è separate, poi ovviamente potete scegliere, come ho detto, in quale scene voi volete la cattura, ad esempio no? Io ad esempio vedete, qui non ho in questa scena la cattura dell'audio di MusicBee, quindi in questa scena Gameplay non verrà catturato l'audio di MusicBee, quindi non si sentirà la musica, ma in questo caso si sente solo l'audio microfono, ma si dovrà sentire l'audio dei miei giochi. Ora andiamo anche a vedere come fare questo. voglio catturare un'audio di gioco, quindi quello che io voglio fare ora, ad esempio, è mettere un'audio di gioco, qui ovviamente vi ho fatto vedere come poter catturare le schermate di gioco, se non avete visto il video precedente andatevelo a recuperare nei video, comunque è semplicissimo. Andiamo ad esempio ad aprire Alan Wake 2, vado ad aprire la finestra di Alan Wake 2, ecco qui che il gioco si sta caricando, arriviamo un attimino fino alla schermata principale del gioco, ok, come potete vedere io sto, sono alla schermata di gioco, però ovviamente non ho l'audio del gioco, ok, vedete il mio gioco, non c'è alcun audio, in questo momento OBS sta catturando solo l'audio del mio microfono, quindi se dovessi andare a giocare la partita, OBS sentirebbe solo questo. Voglio l'audio del gioco, quindi clicco su Application Output Capture, ricordatevi, se avessi avuto attivato la fonte globale desktop dalle impostazioni, quindi se avessi avuto attivata la fonte audio globale, e quindi l'audio del desktop lo avessi avuto già attivato, automaticamente OBS starebbe già catturando l'audio, però tutto l'audio del PC, quindi qualsiasi cosa, qualsiasi audio stia andando in quel momento sul PC, OBS lo starebbe catturando tutto quanto. In questa maniera noi lo prendiamo separatamente, utilizzando il plugin installato, quindi vogliamo l'audio del gioco Alan Wake 2, e andiamo a inserire una nuova fonte, però, però, attenzione, qui inizia la piccola, il piccolo, chiamiamolo trick, ok? Voglio catturare l'audio di più giochi, nel senso che sono uno streamer, sono un game player, ok? Gioco a più giochi, quindi magari oggi gioco ad Alan Wake, però dopo voglio cambiare, voglio giocare a Overwatch, voglio giocare a un qualsiasi altro gioco, e voglio catturare l'audio di più giochi, di quelli che sto giocando al momento, senza ogni volta andare a dire al programma devi catturarmi quest'audio diverso o no, li mettiamo tutti in un'unica fonte, semplicemente noi questa fonte la chiameremo audio gioco, ok? Clicchiamo qui, e come potete vedere già mi trova Alan Wake 2, quindi in questo caso, tra gli eseguibili è già selezionato, lo selezioniamo, clicchiamo su ok, ecco che è comparso il mio audio di gioco, quindi in questo momento, nella mia schermata gameplay, ho il mio microfono, ho la mia webcam, il mio audio di gioco, di cui posso andare a regolare il volume, ovviamente anche questo monitorabile, come potete vedere altre cose, se lo desiderate, monitorabile in chiuffia, e questo il mio audio di gioco. Voglio cambiare gioco, ok? Voglio lasciare sempre l'audio di gioco separato in questa fonte, se vedete ovviamente nel desktop il mio audio di gioco non c'è, quindi non compare nel mixer, non comparirà neanche nella mia sezione camera se dovesse andare a vederla, compare solamente nella mia scena gameplay, perché lì sono andato ad inserirlo. Voglio cambiare gioco, quindi io voglio chiudere Alan Wake 2, voglio cambiare gioco e voglio giocare a Overwatch, ok? Quindi io lancio l'applicazione, attendiamo il caricamento del gioco e vi faccio vedere come si riega anche l'altro audio. Ok, abbiamo avviato il nostro Overwatch, come potete vedere, notate, abbiamo la fonte audio di gioco che però non sta catturando alcun output audio, per quale motivo? Perché non gli abbiamo detto di catturarlo, perché Overwatch è un'altra applicazione. Quindi per far sì che possa catturare l'audio, semplicemente noi entriamo nelle proprietà del nostro audio di gioco per aggiungere un ulteriore gioco, un ulteriore audio di gioco a catturare, quindi ci basterà fare, tasto destro, proprietà, come potete vedere abbiamo aggiunto già Alan Wake, quindi quando noi andremo a riaprirlo, l'applicazione saprà già che dovrà catturare nuovamente l'audio di Alan Wake, ma vogliamo aggiungere anche l'audio di Overwatch, quindi dal nostro memoria tendina cerchiamo Overwatch XE, lo aggiungiamo, ed ecco che compare nell'audio di gioco anche l'audio di Overwatch. Come potete vedere ragazzi, sta avendo catturato l'audio di Overwatch, se io dovessi cambiare nuovamente su Alan Wake 2 lo prenderebbe automaticamente e riconoscerebbe già l'applicazione l'audio di gioco. E qua possiamo ovviamente regolare tutto il nostro audio di gioco, ok? Ovviamente i più di voi che generalmente vanno anche a giocare online e magari streamano partite multiplayer, vorranno anche magari catturare l'audio della chat del gioco, quindi l'audio di Discord, ma vi dico giocatori come magari chi fa videoconferenze o fa altro e vuole catturare l'audio della chat, ok? Semplicemente, ad esempio, possiamo andare a inserire l'audio di Discord come può essere l'audio di Skype o di un'altra applicazione, solo l'audio, attenzione. basterà a questo punto andare a aggiungere un'altra fonte audio, quindi di nuovo Application Audio Capture e ad esempio vado a scrivere qui Discord o Audio Discord come lo preferiamo, Audio Discord, ok? clicchiamo, ecco che andando nel menu a tendina a selezionare Discord che come vi faccio vedere io qua ho già attivo, vado a selezionare il mio Discord e lo aggiungo come eseguibile. Ecco qui ragazzi che come potete vedere in questo momento io non ho alcuna chat attiva, però come potete vedere nel mio mixer è comparso anche l'audio Discord di cui posso andare a regolare il volume separatamente, volendo posso monitorarne l'audio in cuffia come già fatto vedere, attivando il monitoraggio, posso regolarlo separatamente come il volume audio browser e il volume di MusicBee, quindi magari potete ad esempio se vi serve nei gameplay copiare la fonte, quindi semplicemente copiarla e metterla nella vostra schermata gameplay se avete il vostro audio di Discord anche qua e magari quando state giocando potete decidere di tenere l'audio di gioco un po' più basso, magari l'audio di Discord un pochino più alto e il volume del vostro microfono, ragazzi lo regolate come voi volete. Come potete vedere ragazzi è semplicissimo utilizzare questo plugin, vi ho fatto vedere come metterlo in varie fonti, vi ho fatto un po' tutti gli esempi più comuni, quindi dalla semplice cattura audio del browser a l'esempio che vi possiede più che è quello della cattura dell'audio della musica sottofondo del vostro gioco, alla cattura dell'audio di gioco e Discord che è per molti importante, insieme ai ragazzi che mi diciate Mastergate si è dimenticato di farci vedere come si cattura l'audio di Discord. Comunque ragazzi si fa tutto in questa maniera, semplicemente andate a vedere come catturare più fonti audio separatamente, ecco, quindi questo è quanto. Ricordatevi se avete bisogno di catturare più applicazioni audio di diverse applicazioni in una stessa fonte audio, come ho fatto vedere ad esempio per i videogiochi, ricordatevi di entrare nelle proprietà e aggiungere ad esempio nel caso dei videogiochi i file eseguibili dei videogiochi di cui voi volete andare a catturare l'audio. Andiamo a vedere ora una cosa importante di cui mi stavo quasi per dimenticare, ovvero come evitare i copyright audio su Twitch. Ovviamente ragazzi per fare questo dobbiamo aver effettuato tramite OBS l'accesso al nostro canale Twitch. Per farlo questo ragazzi dovete già essere in grado di farlo, altrimenti andate sul video precedente, quindi OBS deve già avere l'accesso a Twitch, quindi se andiamo nella sezione ragazzi dirette dovete già aver effettuato l'accesso al vostro account. Per fare questo ragazzi dobbiamo avere ovviamente tutte le nostre fonti audio separate, però possiamo fare una cosa più carina, ovvero concentrarle in un'unica scena che chiamiamo ad esempio scena anidatta. Poi parleremo più avanti anche di questo, però creeremo adesso un'unica scena anidatta e vi faccio vedere come fare per controllare al meglio tutto l'audio eventualmente. Possiamo creare qui una scena e chiamiamola audio e possiamo da questa scena lasciarla qua così vuota, possiamo prendere ad esempio tutto l'audio che noi abbiamo preso di queste applicazioni, quindi l'audio di Discord, l'audio del browser, l'audio di MusicBee ad esempio, e li possiamo prendere e li possiamo copiare all'interno di questa scena vuota in cui noi avremo tutto l'audio, quindi noi possiamo andare a, possiamo anche mettere l'audio del nostro microfono in questa maniera, sempre andiamo a copiarlo e lo mettiamo all'interno di questa scena audio anche il nostro microfono e possiamo andare a eliminare tutto l'audio che c'è nelle singole scene eventualmente e avere un'unica, un'unica fonte. Come vedete lo sto andando ad eliminare anche nella sezione gameplay in questa maniera, ok? Quindi qua ho solo ad esempio la mia webcam, ho solo il microfono, in questo caso non ho niente, e possiamo andare praticamente ad inserire la scena audio. Per fare questo clicchiamo su aggiungi fonte, ad esempio nel desktop, andiamo a fare aggiungi scena e andiamo a prendere la nostra scena audio. Come potete vedere ora in un'unica, in un'unica sorgente, noi abbiamo già tutto il nostro audio così come lo abbiamo creato, audio browser, audio disco, audio microfono, MusicBee, stesso audio che c'è qua, ma lo abbiamo già nella scena, possiamo andare anche questa a copiarla ad esempio nella scena gameplay. Questo ovviamente vi servirà di più magari se l'utilizzate nel desktop. Se semplicemente volete avere solamente nel gameplay l'audio del microfono e l'audio di Discord, potete semplicemente anche andare a prendere l'audio del microfono e l'audio di Discord, andare in questa maniera a copiare queste due fonti nella sezione gameplay, andare ad incollarle e semplicemente avrete solamente questo audio qui ragazzi, incollato come riferimento. Ok? Detto questo, vi vado a far vedere come effettua effettivamente la separazione, come effettivamente evitare i copyright. Durante le live Twitch ragazzi, voi fondamentalmente potete riprodurre tutta la musica che voi volete, normalmente anche non protetta da copyright. L'importante è che poi ragazzi non si senta nel VOD, ovvero nel video on demand, che è il video che rimane su Twitch dopo che voi avete terminato la live, che rimane per un po' di mesi, un po' di settimane, perché là ragazzi vi bastonano. Quindi noi dobbiamo evitare questo perché sono lì poi che arrivano gli strike. Quindi avete due soluzioni, o utilizzare musica non protetta, quindi della musica free che potete trovare tranquillamente su YouTube e scaricare, utilizzare la vostra traccia, oppure utilizzare musica non protetta, musica protetta da copyright, che può provenire da YouTube o da traccia audio di cui voi già siete in possesso. In questo caso qua vi faccio vedere come andare a fare. Io qua ad esempio uso MusicBee, generalmente non utilizzo musica protetta da copyright, ma utilizzo della musica normale. Andiamo a vedere come fare. Allora, come potete vedere qua, noi abbiamo il nostro mixer audio, ok? Per fare questo, semplicemente, andiamo prima in impostazioni, ok? E andiamo nella sezione uscita. Come potete vedere, avrete effettuato l'accesso alla vostra account Twitch, quindi nella sezione uscita nella scheda diretta, sarà comparsa anche questa voce, traccia VOD Twitch. Questa traccia, noi dobbiamo andare a spuntarla e dire che la traccia dei VOD Twitch è la traccia 2, mentre la traccia di tutto l'audio dello streaming in diretta sarà nella traccia 1. Quindi ricordatevi, audio dello streaming in diretta, traccia 1, audio del VOD, quindi del VOD Twitch, del video on demand post prodotto, traccia 2, ok? Dobbiamo impostare in questa maniera e applicare. A questo punto, per far sì che effettivamente l'audio che state riproducendo non si senta, io ad esempio mando MusicBee per farvi un esempio, come potete vedere, l'audio MusicBee sta venendo riprodotto. Andiamo nelle impostazioni e semplicemente ci spostiamo qui nella finestra. Come potete vedere, se noi andiamo a, nell'audio MusicBee, che sta riproducendo che il nostro lettore, ma ripeto può essere YouTube, ad esempio, che sta riproducendo della musica non protetta, YouTube Music, mettiamo conto, potete andare a dire come eliminare la traccia nel VOD. Quindi come potete vedere, noi qua abbiamo delle tracce, ok? Dalla 1 alla 6. Abbiamo specificato nelle impostazioni che le tracce del VOD si troveranno nella traccia 2. Quindi noi qua andremo a dire che noi nella traccia 2 del VOD di Twitch, quindi nel VOD in traccia 2, non vogliamo sentire la musica. Quindi andremo a togliere la spunta da MusicBee. Così facendo, voi durante la stream avrete tutta la vostra musica, tutto quello che volete, ok? Quindi la musica verrà riprodotta, ma quando andrete a rivedere il vostro VOD avrete la vostra live semplicemente senza alcun tipo di musica di sottofondo. Questo valutatelo voi. Ripeto, se la volete anche nel VOD cercate di utilizzare musica non protetta. Se volete fare i fighi, tra virgolette, e avere della bella musica, gli ultimi brani e tutto quanto, volete riprodurre l'ultima musica più recente che ovviamente è protetta da copyright, ragazzi, a quel punto là vi conviene mandarla in stream, non mandarla nel VOD e la deselezionate dalla traccia 2. Questo ragazzi è quello che permette di fare questo WinCapture Audio plugin. Fatto questo, possiamo chiudere e terminare così alla fine, no? Bene, signori, io credo che per ora questo tutorial sia terminato. Come avete visto, è una cosa semplicissima e utilissima perché in questa maniera evitate di avere un sacco di confusione nell'audio e nell'ingresso nel vostro PC. Quindi potete andare tramite il mixer di OBS Studio e tramite questa applicazione a giocare con i volumi di applicazioni prendere solo quello che a voi serve senza avere altre interferenze da audio e gestirle come meglio credete. Mi auguro ragazzi che questo tutorial vi sia piaciuto dato che alcuni già me l'avevano chiesto c'è avuto un po' di tempo scusatemi però problemi non sono riuscito a farlo prima. Vi ricordo che potete trovarmi anche sul mio canale Twitch non streamo non riesco a streamare regolarmente in giorni prefiniti perché famiglia impegni lavoro non me lo permettono streamo quando ho tempo ragazzi generalmente la porto giochi gameplay single player ogni tanto il sabato sera mi trovo con degli amici se volete venire a giocare potete farlo o semplicemente se mi trovate in live volete farmi qualche domanda avete voglia di fare una chiacchierata in live come venite a trovarmi anche sul canale Twitch vi ricordo se il video vi è piaciuto di mettere un like di iscrivervi al canale se non l'avete fatto un saluto a tutti e alla prossima ciao ciao